Anno a 17, 16 e 15 anni, quattro minori gelesi già con precedenti penali arrestati ieri pomeriggio dagli agenti della sezione volanti a Marina di Ragusa per il furto di uno scooter. Diverse le segnalazioni giunte al 113 per la presenza sospetta dei quattro che si aggiravano in Piazza Malta guardando gli scooter in sosta. Tra le segnalazioni anche quella di un carabiniere libero dal servizio che aveva descritto le movenze dei criminali. I poliziotti di quartiere e le volanti giunti sul posto hanno chiuso le possibili vie di fughe e con discrezione si sono avvicinati alla baby gang. Arrivati a poche decine di metri, i poliziotti ne avevano da subito identificato due che facevano da palo, mentre gli altri due stavano tentando di forzare il quadro elettrico di uno scooter in sosta. I due equipaggi hanno accerchiato i quattro, bloccandone subito due, mentre gli altri sono riusciti a fuggire. Nonostante il tentativo di allontanarsi, i poliziotti sono riusciti a bloccarli, uno in spiaggia mentre tentava di nascondersi tra i bagnanti, e l'altro mentre percorreva il lungomare anche con l'aiuto prezioso dei cittadini che hanno indicato la via di fuga del ladro. Bloccati si è proceduto all'identificazione e si è appurato che erano dediti a delinquere, considerati i numerosi precedenti al loro carico. I malviventi erano giunti a Marina di Ragusa proprio per commettere furti di scooter, per questo erano attrezzati di tutto punto e determinati a realizzare il piano messo in atto. Le perquisizioni personali eseguite dagli agenti hanno dato esito positivo, considerato che sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso e congegni utilizzati per compiere furti di motocicli. Al termine degli accertamenti, i quattro gelesi sono stati associati all'Istituto di Pena di Catania, a disposizione della Procura per i minori presso il Tribunale Etneo. Preziosa, anche in questo caso, la collaborazione dei cittadini, che hanno tempestivamente contattato il 113 per segnalare i quattro minori, mentre perpetravano il furto e il supporto dato agli agenti nelle fasi dell'inseguimento.